Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gm, ragazzi, insieme a tutti e lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale qualcuno l'avete fatto, attivate la campagna e volete dire come tutti i miei video di oggi ragazzi, qualcuno deve partire con Torbit e cercheremo di arrivare proprio qua, qui, spumeggiante, qua. Ma sto tenendo la cassa, voi chiedete, la cassa aprirò? No, perché me la sto tenendo per un chest opening, che faremo prossimamente con l'amica cassa, anzi, questa cassa mi la apre, ma non trovo nulla perché la sua fune con me, però ragazzi, io non ho finito babbita. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.